Dunque, quest'oggi voglio andare a reesaminare una vecchia teoria, che rimane tuttora, nonostante gli eventi del gioco principale si siano conclusi, una delle teorie più popolari di Life is Strange. Ovviamente sto parlando dell'ipotesi dei poteri di Rachel. Vedete, l'origine dell'abilità di Max di riavvolgere il tempo rimane ad ora probabilmente il mistero più grande che circonda gli eventi di Life is Strange. Moltissimi fan, me compreso, non riescono tuttora a mettersi l'anima in pace e a rinunciare a trovare una possibile spiegazione. Ebbene, in seguito alla presentazione di Life is Strange Before the Storm, tutta la faccenda che avevo temporaneamente accantonato nei meandri più reconditi della mia mente è riaffiorata come l'orussione di un vulcano. E ora da diversi giorni ho questa idea che mi gira in testa e che voglio quindi condividere con voi. Ecco perché ho deciso di andare a compilare in questo video tutti i possibili indizi che ci sono stati dati fino ad ora, sia nel corso del gioco principale e adesso anche nel trailer e nel gameplay di Before the Storm, che vanno a supportare la teoria secondo cui Rachel Amber fosse dotata effettivamente degli stessi poteri di Max Caulfield. O che addirittura sia stata proprio la ragazza stessa a trasferire i poteri a Maxine in qualche modo. Inoltre dopo vi dirò anche qualche piccola teoria che ho riguardo a quello che potrebbe succedere in Before the Storm e anche qualche teoria che ho riguardo a Rachel e così via. Ok, ma iniziamo parlando prima degli indizi come vi avevo promesso e poi passiamo alle teorie. Nel mio ultimo video caricato ho parlato di come Rachel, proprio come Chloe, fosse un amante di alcolici ed erba, ma allo stesso tempo è in grado di mantenere il suo livello di eccellenza accademica e il suo status sociale allo stesso tempo. E questo è non solo l'indizio a mio avviso più significativo, ma anche il primo che ci verrà dato nel gioco. Rachel ci viene descritta come la ragazza più popolare della scuola, tutti sembrano conoscerla ed avere storie su di lei. Partecipava ai parti insieme ai membri del Vortex Club, faceva skateboard con gli skater e posava come modella per i fotografi e gli artisti della Blackwell. Era un vero e proprio animale da festa, ma allo stesso tempo era anche uno degli studenti più dotati della scuola, con un GPA strabiliante di 4.0 che in America rappresenta il voto più alto raggiungibile da uno studente. Era inoltre impegnatissima con numerose attività extracurricolari e nel tempo libero riusciva anche a trovare il modo di bere e fare tranquillamente uso di droghe leggeri come se nulla fosse. E come se non bastasse, svolgeva anche il ruolo di cuorire della droga per Frank, con il quale aveva anche una relazione. Quindi qui abbiamo praticamente il quadro di una ragazza impossibile. Nessuna persona riuscirebbe a trovare il tempo di fare tutte queste cose, io riesco a malapena ad allacciarmi le scarpe di mattina, a meno che non fosse per l'appunto in grado di gestire il tempo a suo piacimento. Fra l'altro sappiamo anche che David le stesse con il fiato su collo in quanto a conoscenza del fatto che la ragazza facesse da cuorire della droga per Frank, ma nonostante questo, anche tenendola sempre sotto stretto controllo, non è mai riuscire ad accoglierla in fragrante. E David come agente di sorviglianza non scherza affatto, la cosa non è un po' sospetta. Ogni studente della Blackwell parlerà sempre bene di Rachel ad eccezione di una sola persona, Victoria Chase, che sentendosi chiaramente clissato dalla ragazza più popolare svilupperà una sorta di sentimento che è un mix fra l'odio, l'invidia e l'ammirazione nei suoi confronti. E questa cosa non vi ricorda anche qualcun altro? Victoria svilupperà praticamente gli stessi sentimenti per Max, che grazie ai suoi poteri temporali diventerà nell'arco di solo un paio di giorni la persona più popolare della Blackwell. E se anche Rachel avessi usato lo stesso modo per raggiungere quel livello di popolarità? Spiegherebbe l'asse di Victoria nei suoi confronti. Non sembra anche a voi che qui le coincidenze siano un po' troppe? Ma ora, prendiamo un attimo in esame questa scena mostrata nel gameplay delle tre, in cui Chloe viene quasi accredita da due tizi durante il concerto di Firewalk. Poco prima del fatto sarà possibile vedere Rachel ballare tranquillamente vicino al palco, ed esattamente un secondo prima che i due attacchino Chloe, Rachel arriverà giusto in tempo per salvare la situazione. Cavolo, questo è quello che chiamo tempismo. O forse no. Ora, riesaminiamo tutta la sequenza, ma per un secondo facciamo finta che la ragazza abbia effettivamente gli stessi poteri di Max. Immaginiamo lo scenario in cui i due tizi riescano effettivamente ad attaccare Chloe. La ragazza si trovava su una pedana rialzata senza ringhiere, quindi è piuttosto probabile che se due l'avessero effettivamente aggredita, Chloe sarebbe molto probabilmente potuta cadere, rimanendo gravemente ferita o addirittura uccisa. Quando vedremo Rachel arrivare in soccorso a Chloe, potremo notare sul suo volto un'espressione piuttosto arrabbiata. E se la ragione per l'espressione di Rachel fosse che la ragazza ha effettivamente visto l'aggressione e la caduta di Chloe? E ovviamente, essendo dotato del potere di riavvolgere il tempo, fosse stata in grado di tornare indietro e quindi di fermare due tizi prima che potessero attaccare Chloe? D'altronde, se ci fate caso, sarebbe stato impossibile per Rachel vedere o sentire Chloe discutere con i tizi al piano di sopra, per via delle luci e della musica ad alto volume, a meno che questa non fosse precipitata dall'alto attirando quindi l'attenzione della ragazza e di tutti i presenti al concerto. Quindi, in un gioco in cui i viaggi temporali esistono, quale delle due opzioni vi sembra la più probabile? Numero uno, che una ragazza che sembra dotata del potere di viaggiare nel tempo sia effettivamente dotata del potere di viaggiare nel tempo e che quindi abbia usato il suo potere per salvare una ragazza da una festa? Oppure numero due, che una ragazza qualsiasi che fino a pochi secondi prima era impegnata a ballare e abbia deciso senza nessun motivo apparente di smettere di fare tutto quello che stava facendo per regarsi al piano superore della fabbrica e, per puro caso, combinarsi con Chloe appena in tempo per salvarla da due tizi che la avrebbero attaccata? Già, personalmente a me sembra quasi come se Rachel sapesse quello che stava per succedere. Un altro indizio interessante che supporta la mia teoria lo troveremo parlando con Evan nel primo episodio di Life is Strange. Evan infatti dirà di come Rachel fosse la sua modella preferita da fotografare in quanto la ragazza era sempre in grado di trovare immediatamente l'angolo perfetto per la sua fotocamera. Quasi come se sapesse in anticipo in che posizione e in che posa Evan voleva che si mettesse. Anche qui, io sento odore di rivolgimento del tempo. E per concludere, un ulteriore indizio interessante potrebbe addirittura essere nascosto nella sequenza mostrata nel gameplay di Before the Storm. Quella in cui ci viene mostrato il repentino cambio di umore di Rachel. Ma qui ovviamente non ci sono prove che supportano questa teoria, quindi potrebbe semplicemente essere qualcosa di campato in aria. Comunque, ci sono già diverse ipotesi riguardo a cosa avrebbe potuto causare il cambio di umore di Rachel. Ma una delle più gettonate suggerisce che, qualora Rachel avesse effettivamente il potere di riavvolgere il tempo, la causa del suo comportamento potrebbe essere stato causato da una spiacevole interazione con Chloe, che magari la ragazza ha poi deciso di cancellare tornando indietro nel tempo. E questo spiegherebbe anche il perché Chloe non avesse la minima idea di ciò che è accaduto. In quanto per lei la cosa non è accaduta affatto. È interessante sapere che Deck Nine, nonostante come vi ho già detto mille volte ormai, abbia annunciato che Chloe non avrà il potere di riavvolgere il tempo, ovviamente non hanno mai detto nulla riguardo a Rachel. Ciò che hanno detto però è che uno degli elementi di Strange che caratterizza Life is Strange farà il suo ritorno in Before the Storm. E cosa c'è di più Strange se non l'abilità di tornare indietro nel tempo? Mi domando. Chloe direi in quest'altra sequenza che il padre di Rachel è un procuratore distrettuale. E ricordiamoci che ci è stato detto che in questo titolo la famiglia di Rachel avrà un grosso segreto. Diamo ora un'occhiata a questa coppia. L'uomo è vestito incredibilmente bene, con l'abbigliamento adatto ad un avvocato o forse a un procuratore distrettuale. E vedremo che Rachel diventerà inespiegabilmente silenziosa proprio in seguito alla visione della suddetta coppia. È possibile che Rachel abbia magari involontariamente sorpreso suo padre a tradire sua madre? Chloe, che inizialmente non noterà il cambio di umore di Rachel, continuerà a fare il suo gioco e alla visione della coppia farà anche dei commenti piuttosto fuori luogo, che magari potrebbero aver causato una reazione da parte di Rachel. La ragazza potrebbe aver iniziato una lita con Chloe, che ha poi però magari deciso di cancellare tornando indietro nel tempo. Questo spiegherebbe la misteriosa incongruenza con il carattere che ci viene inizialmente descritto come incredibilmente positivo di Rachel. D'altronde sorprendere il proprio padre che tradisce potrebbe far vendire i 5 minuti a chiunque, e anche il perché Chloe fosse completamente all'oscuro di qualsiasi cosa fosse accaduta. Ok, per indizi questi sono i più importanti e quelli che ritengo i più plausibili. Ora invece vi avevo anche promesso altre teorie, quindi eccomi serviti. Queste saranno fra l'altro, come vi ho già detto, teorie che hanno a che fare con Rachel e con la sua possibile abilità di rivolgere il tempo, quindi si resta sempre in tema. Ma ora, allacciatevi le cinture perché qui la situazione diventerà piuttosto folle. Ormai mi conoscete. Ok, ma partiamo dall'inizio. E con inizio intendo il vero inizio. Ah, sempre voluto dire questa frase. Nella sequenza introduttiva di Life is Strange ci verrà presentata per la prima volta la visione di Max, un enorme tornado che si dirige verso Arcadia Bay. Ora, è importante notare come Max avrà questa visione ancora prima di assistere all'amicizia di Chloe, e quindi ancora prima di scoprire per la prima volta il suo potere. Nel finale del gioco ci viene suggerito che il tornado ci è stato causato da Max, che, avendo sottratto Chloe al suo destino, ha causato una sorta di squilibrio nell'universo, che, per tentare di rilinearsi, ha causato il tornado, i disastri marittimi e tutte le follie ambientali che vedremo in Life is Strange. Tuttavia ci sono molte cose che non tornano a questo punto. Per prima cosa, come mai Max avrebbe avuto una visione dell'uragano prima ancora di usare per la prima volta il suo potere? Viene quasi implicato che la tempesta fosse già in arrivo in quel preciso istante. E in secondo luogo, come mai è solo il salvataggio di Chloe a causare l'uragano? Non dimentichiamo che Max con il suo potere salverà anche Kate nel secondo episodio, che senza il suo intervento sarebbe precipitata giù dal tetto della Blackwell. Senza contare le innumerevoli altre volte in cui la ragazza rivolgerà il tempo, alterando il corso degli eventi senza nessuna apparente conseguenza. Quindi, cosa sta succedendo qui? Beh, a mio avviso, come vi ho già accennato in uno scorso video, la catena di eventi che ha portato all'arrivo dell'uragano era già avviata prima che Max salvasse Chloe. E penso anche che Rachel potrebbe essere collegata alla cosa. Io credo che l'uragano non sia stato causato da Max, bensì da qualcuno che ha alterato il corso degli eventi per molto più tempo della ragazza. Pensateci bene. Se basta così poco per creare un cataclismo di tali dimensioni, allora come mai il salvataggio di Kate sembra non avere alcuna ripercussione? E certo, qui qualcuno potrà ribattere dicendo «Ok, ma allora come mai qualora Max decidesse di sacrificare Chloe nel finale, il tornado scomparirà misteriosamente?» Beh, vedete, io penso che la ragione dell'arrivo dell'uragano sia effettivamente il salvataggio di Chloe, tuttavia non da quello per mano di Max. Va bensì dai continui salvataggi di Chloe da parte di Rachel, dotata anch'essa del potere di rivolgere il tempo. Sembra folle, probabilmente lo è, ma la cosa ha effettivamente senso se mi seguite, lo giuro. Di nuovo, abbiamo visto Max salvare Kate una volta, e questo sembrerà non aver avuto nessun effetto. Ma da quel che sappiamo di Chloe, beh, lei è tutta un'altra faccenda rispetto a Kate. Chloe è come una sorta di magnete per eventi mortali. Ora, magari cambiare il corso degli eventi una volta non è sufficiente a causare un cataclismo come un uragano. Magari l'universo è in grado di risincronizzarsi da solo in questo caso. Tuttavia, immagino che la stessa azione, ripetuta però ancora e ancora e ancora, come ad esempio il salvataggio della stessa persona ripetuto un numero esagerato di volte, potrebbe effettivamente creare qualche sorta di squilibrio nell'universo. Come ho appena detto, Chloe sembrerà possedere l'innata abilità di attirare a sé i guai. Seriamente, fateci caso. La ragazza è praticamente un magnete per il pericolo. Prendiamo ad esempio il gameplay di Before the Storm, che cronologicamente mostra la prima apparizione di Chloe dopo la morte di William. La prima cosa che ci verrà mostrata è letteralmente la ragazza che viene quasi travolta da un treno. E quasi immediatamente dopo la vedremo inguagliarsi con un venditore di magliette e venire quasi sfregiata da due tizzi loschi al concerto di Firewalk. In seguito, negli eventi di Life is Strange, vedremo Chloe venire uccisa da Nathan, poi la vedremo spararsi da sola con la sua stessa pistola, uccisa di nuovo da Jefferson, essere quasi accoltellata da Frank, quasi aggredita nuovamente da Nathan armato di pistola. Insomma, Chloe sembra essere in costante equilibrio fra la vita e la morte. E a questo punto mi dispiace dirlo, ma come diamine ha fatto a sopravvivere per tutti questi anni? L'unica cosa che mi viene in mente è che, prima ancora di Max, ci fosse qualcun altro che le guardasse le spalle. Una sorta di angelo custode, se vogliamo. Angelo. Termine usato, fra l'altro, dalla stessa Chloe per descrivere Rachel. Ci vengo inoltre a farvi notare che Chloe, da quello che ci viene detto nel primo titolo, non abbia mai avuto grossi problemi nel periodo in cui Rachel era viva. Mentre invece, guarda caso, non appena la ragazza scompare, Chloe verrà rapita e drogata da Nathan, inizierà ad avere problemi con Frank, e verrà infine addirittura uccisa. Quasi come se con la scomparsa di Rachel fosse anche scomparsa la forza che la teneva al sicuro e lontana dai guai. Sappiamo che Chloe e Rachel siano state inseparabili per tre anni. E ora, immaginate in quei tre anni quanti faccia a faccia quella morte Chloe potrebbe aver avuto. Ora, questo mi sembra un numero di riavvolgimenti temporali abbastanza alto da creare una sorta di sbilanciamento dell'universo. Quindi, qualora Max deciderà di sacrificare Chloe alla fine del quinto episodio, permetterà finalmente all'universo di compiere il destino di Chloe e quindi di riprendere il suo ritmo regolare, fermando perciò la tempesta. Questa è l'unica spiegazione che sembra avere senso per me. Altrimenti perché il salvaggia di Kate nel secondo episodio e gli altri cambiamenti temporali fatti da Max non dovrebbero avere alcuna conseguenza? Perché non penso siano cambiamenti tanto grandi da causare una sorta di sbilanciamento nel continuo spazio temporale. Mentre invece salvare Chloe per tre anni di fila prima dell'arrivo di Max è possibile caso di uragano, se devo dirlo. E l'unica persona che penso sarebbe stata in grado di fare una cosa del genere prima di Max è Rachel Amber, in quanto anche essa dotata di poteri temporali. Anche soprannominati da me, poteri evitiamo che Chloe muoia nei modi più orribili. C'è inoltre da ricordare che il finale di Life is Strange non è esattamente il finale completo che Dontnod aveva inizialmente immaginato per il titolo. A causa delle limitazioni di budget e tempo, nel primo gioco diverse informazioni e dialoghi interessanti sono stati tagliati dal prodotto finito. E fra i più importanti abbiamo diverse frasi dette da Nathan che parla di come si ha conoscenza del fatto che il tornado sta arrivando e di come dica che suo padre sta arrivando quindi tutti i personaggi sono finiti. Personalmente il fatto che Nathan sapesse della tempesta e a quanto pare lo sapesse già da così tanto tempo da poterci addirittura organizzare un party a tema sopra è un'ulteriore prova che la tempesta non può essere stata causata dal potere di Max che la ragazza ha avuto solamente per tipo due giorni ma piuttosto da qualcun altro. Magari chissà, il progetto iniziale per il finale di Life is Strange era proprio quello di concludere il gioco rivelando che anche Rachel era in grado di viaggiare nel tempo. E ora Deck Nine, in seguito alla discussione fatta con Dontnod riguardo al background e ai progetti originali che avevano per il titolo abbiano deciso di sviluppare questo prequel per concludere la storia a dovere e rispondere finalmente alle domande lasciate senza risposta. E ok, so che ora mi sto davvero allargando probabilmente più di quanto abbia mai fatto con qualsiasi altra teoria ma, ehi, chi può dirlo, giusto? Stiamo pur sempre parlando di viaggi nel tempo quindi di fantascienza perciò, ehi, magari. D'altronde sappiamo che sia Rachel che Nathan saranno presenti in Before the Storm quindi la cosa potrebbe addirittura avere un senso. Ovviamente qui stiamo solo teorizzando io ora potresti giustamente ribattere dicendo ok, ma allora anche ammettendo che Rachel avesse effettivamente i poteri come diamina fatto a passarli a Max questa è effettivamente la cosa che mi dà più da riflettere ma ricordiamo che il tema del paranormale sembra essere un elemento portante del titolo di Life is Strange vedremo come gli animali guida sono una forza realmente esistente all'interno dell'universo di gioco quindi è possibile che magari Rachel sia stata in grado in qualche modo di passare il suo potere a Max tramite i poteri degli animali guida delle ragazze rispettivamente la farfalla che Max vedrà nel bagno proprio prima dell'incontro con Chloe la scerba che sembra guidare Max e impostarla sulla retta via per scoprire quello che è successo a Rachel e la ghiandaglia blu che è sempre presente nei dintorni della casa di Chloe quasi come se fosse lì per assicurarsi che la ragazza stia bene da quello che ci viene detto nel primo titolo Rachel e Chloe avevano una connessione speciale quindi è possibile che Rachel o forse il suo spirito guida sia riuscita nonostante la sua morte nella timeline originale a passare il suo potere a Max per proteggere Chloe per risolvere il caso della sua scomparsa anche perché non scordiamoci che la teoria dei multiversi è praticamente stata confermata nel quarto episodio quindi magari la stessa Rachel potrebbe addirittura essere ancora viva in un'altra timeline chissà ok quindi queste erano le mie teorie principali e gli indizi che ho trovato che potrebbero supportare l'ipotesi dei poteri di Rachel Amber io personalmente più passo il tempo e più sono convinto che la teoria abbia effettivamente un fondo di verità insomma l'origine dei poteri di riavvolgere il tempo di Max resta ancora un mistero e io sento che questa teoria se confermata potrebbe essere la chiave per svelare finalmente il più grande mistero di Life is Strange per concludere ho visto diverse persone online domandarsi ok ma se Rachel aveva effettivamente il potere di riavvolgere il tempo com'è possibile che sia stata uccisa? beh ricordate che i poteri di Max sono stati temporaneamente disattivati dalla droga iniettata dal professor Jefferson e che da quel che sappiamo Rachel sia stata uccisa da Nathan proprio con un'overdose della stessa droga quindi anche qui tutto sembra tornare ok e voi invece cosa ne pensate? avete altri indizi che pensate possano essermi sfuggiti o qualche teoria riguardo a quello che potremmo vedere di Raimble for the Storm? fatemi sapere la vostra nei commenti in quanto mi interessa davvero sapere la vostra opinione bene per oggi è tutto ho concluso con le mie folli teorie con le mie analisi impazzite spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.